Buongiorno! 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 Questa è la Coppa? È lei! Ce la fa vedere? Buongiorno! Ecco la Coppa! Eccola! Sì, abbiamo scritto realmente una pagina di storia, poi l'abbiamo tanto sognata, voluta, le tante difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare in questi due anni e mezzo, sicuramente da quando siamo partiti. Quattro esordienti in due anni, una squadra giovanissima, un traguardo raggiunto forse anche più velocemente di quanto ci aspettassimo, però ne siamo veramente orgogliosi. Che questa è la Coppa di tutti, che se in un momento così complicato, ovviamente non abbiamo salvato nessuna vita perché parliamo di sport, ma se in un momento così complicato riusciamo anche soltanto a regalare un sorriso, per noi la missione è compiuta. Questa è la vostra Coppa!